eccoci qua ben trovati oggi parliamo di musica con una cara amica francesca lorenzini in la in arte francy soul ciao francesca ben trovata che piacere tu sei un'interprete cantante e giovanissima se giovanissima e hai appena terminato un tuo cd dove ti sei dedicata a cantare brani famosi ma parlaci un pochino di te dai allora in sostanza ho voluto realizzare un un sogno di un cd mio tutto di cover tra cui all'interno c'è la canzone più importante che ha dato la mia vita ha rimesso al mondo la mia vita infatti ho dato proprio il titolo a al cd che è una canzone in inglese di daido here with me qui con me infatti ho dato il titolo al cd aspetta che lo inquadriamo eccoci faccelo vedere eccolo qua no è un caso perché io canto sempre tutto in italiano e questa è l'unica è l'unica canzone che siccome mi ha risvegliato e mi ha ridato la vita nonostante nonostante non sapessi cosa diceva il titolo ho tradotto e ci sono rimasta sconvolta sembrava che capivo quella quello che diceva il cd sembrava che sembra che abbia smosso qualcosa dentro di me sta entrando nel personale però mi ha risvegliato mi ha ridato la vita siamo oltretti a chiedere a questo punto eh visto che sei bella fresca pimpante ne puoi parlare il nome artistico franci sol è l'anima che parla diciamo dal risveglio se esce fuori il suono della voce come mai si canta come mai è una grande passione vabbè poi mi fa star bene è una cosa che mi fa star bene dentro mi scarica riesco perlomeno riesco a comunicare le emozioni che c'è dentro senti se qualcuno scrivesse qualcosa per te di cosa dovrebbe parlare la canzone adesso sono tutte sincronizzate sull'amore però sul sulle cose belle della vita sicuramente sull'apprezzare l'animale l'amore in generale vuoi pensare positivo giustamente vuoi pensare positivo giustamente sì sì io sempre assolutamente non riesco a vedere il buio proprio non ci riesco senti pagine social ne hai sì perché noi siamo curiosi vogliamo venire a ascoltare a vedere le tue esibizioni ufficiale scritto franci sola la voce franci sole il gruppo franci sole su youtube franci sole che presto verrà pubblicato le nuove canzoni inediti che adesso sta scrivendo marco natali che sto collaborando con lui o per un nuovo percorso artistico per creare l'artista diciamo come cantante bene e instagram ce l'hai instagram ce l'ho certo sono dappertutto sempre franci sole sì perfetto o franci sole o francesca lorenzini però tutto franci sole sicuramente tutto franci sole se qualcuno ti dicesse ma si scrive un pezzo per sanremo che cosa cosa gli rispondi al volo no ora al volo no e è un grosso impegno non è che sia semplice arrivare imbarcare sarebbe bello sogno irrealizzabile però insomma bene senti ci rinquadriamo il cd di modo che facciamo vedere il tuo esordio faccio rivedere e gli dici il titolo e qui con me franci sole bene allora franci sole ti dico benvenuta e attendiamo le tue canzoni quelle quelle inedite ok grazie ciao